è tornato il maestro marco bellocchio ma stavolta non con un nuovo film bensì con una serie dal titolo esterno notte che possiamo trovare nelle sale divisa in due parti i primi tre episodi dal 18 maggio mentre le successive tre puntate restanti dal 9 giugno poi ognuno di questi episodi per un totale di sei puntate verrà mandato in onda in chiaro sul rai 1 nell'autunno del 2022 ogni lavoro portato avanti da bellocchio è sempre un'opera straordinaria ed infatti al primo giorno di programmazione sono andato a luci di bicocca per godermi queste due ore 40 di pura meraviglia si torna a trattare il caso moro dopo che ricorderete lo splendido film buongiorno notte in cui bellocchio un po come farà anche tarantino cambiò la storia perché in tal film tutto dal punto di vista dei rapitori alla fine aldo moro si salvava nel caso non l'aveste visto recuperatevelo perché proprio in tale pellicola si denota la potenza del cinema che riesce a cambiare la storia molto spesso quando si parla di questo espediente si fa sempre riferimento a tarantino e al suo ottimo bastardi senza gloria o c'era una volta ad hollywood pensate che anche in italia certe cose le abbiamo fatte questa sua nuova pellicola beh dobbiamo dire che intanto sia bellissimo poterla vedere in sala e non doverci accontentare di recuperarla su rai 1 è stata presentata nella sua versione integrale al festival di can e arriva in concomitanza nelle sale ciò che sto leggendo beh è entusiasmante non ho letto una critica negativa perché come si fa a criticare un'opera così perfetta sotto tutti i punti di vista registicamente narrativamente a livello di interpretazioni ormai sul caso moro che tutti conoscete hanno fatto film hanno fatto serie miniserie documentari chi più ne ha più ne metta molti grandi attori italiani hanno interpretato la figura di aldo moro ecco che marco bellocchio che non ama ripetersi oppure fare delle cose che risultino fini a se stesse ci mostra innanzitutto un ampiamento di buongiorno notte un'espansione e in questa espansione ci racconta la storia del sequestro aldo moro avvenuta il 16 marzo del 1978 ad opera delle brigate rosse da vari punti di vista ecco che quindi se nel film del 2003 se non erro si vedeva il punto di vista dei rapitori anche persone insospettabili sotto certi punti di vista ecco che qua almeno nei primi tre episodi ci si sofferma molto innanzitutto sul punto ci si sofferma molto innanzitutto sul punto di vista di aldo moro interpretato da un grandissimo fabrizio gifuni per poi spostarsi sul punto di vista anche di cossiga oppure di paolo sesto abbiamo delle interpretazioni secondo me incredibili cossiga è interpretato da fausto russo alesi che già aveva lavorato con bellocchio tra l'altro in quel capolavoro che è il traditore e poi abbiamo toni servillo che interpreta papa paolo sesto in in una serie in cui compare anche giustamente il presidente del consiglio giulio andreotti che in questo film è interpretato da fabrizio contri quando ricorderete nel divo bellissimo film di sorrentino andreotti era proprio interpretato dal camaleontico toni servillo tre puntate che riescono ad entrarti dentro dove la fotografia di francesco di giacomo il montaggio di francesca calvelli e anche questa sceneggiatura dello stesso bellocchio di stefano bises di ludovica rampoldi e davide serino riesce a farti rivivere in maniera storica e accurata e a farti riflettere su quel terribile avvenimento che scosse roma che scosse l'italia intera il rapimento aldo moro si rivive il periodo delle brigate rosse si rivivono quegli anni roventi quegli anni veramente problematici in cui si voleva lottare per cercare anche di andare contro allo stato queste brigate rosse che permiavano che riuscivano sempre a portare avanti questi atti terroristici creando il panico creando disguidi in città con i rapimenti che erano all'ordine del giorno e con un povero aldo moro che era il presidente di democrazia cristiana che si ritrovò per 55 giorni manovrato da questi ragazzi anche giovani che lo portarono poi alla morte però in quei 55 giorni come la storia ci insegna beh tra telefonate messaggi tra proposte di risarcimento economici per avere aldo moro indietro il povero protagonista ne ha vissute di tutti i colori e ciò che fa marco bellocchio con la sua messa in scena sempre pulita sempre quadrata dove ogni inquadratura racconti qualcosa dove non c'è spazio per didascalismi anzi come proprio il cinema di bellocchio ci insegna si lascia spazio all'onirismo ci sono dei momenti onirici così come accadeva nel traditore così come accadeva in molti film del maestro in cui attraverso delle situazioni che non hanno bisogno di essere didascaliche o esplicite si mostra il fardello che si deve portare addosso il nostro aldo moro un po come gesù sulla croce perché facciamoci caso politicamente si può essere d'accordo oppure no con la dc si può essere d'accordo oppure no con le sicurezze il pensiero politico di aldo moro che proprio in quel giorno nel giorno del rapimento il nuovo governo guidato da giulio andreotti stava per essere presentato e accolto in parlamento per ottenere la fiducia quindi indipendentemente dall'essere d'accordo dall'essere di destra dall'essere di sinistra è innegabile sostenere la violenza come forma di dissenso verso uno stato che per queste brigate rosse non tutelava loro come gli altri quindi il film oltre ad essere un bellissimo documento storico e una grandissima dimostrazione di quanti attori capaci si abbiano in italia perché in questo film marco bellocchio come sempre nelle sue opere riesce nelle sue opere riesce a racchiudere un nutrito e folto cast di attori che si immedesima perfettamente in quei luoghi in quegli spazi che si immedesimano perfettamente in quei personaggi basti vedere anche a livello di comunicazione non verbale ciò che riescano ad emanare basti vedere giulio andreotti basta vedere cossiga basta vedere aldo moro fabrizio gifuni anche quando parla in pubblico all'università come muove le mani se facciamo un paragone con il vero aldo moro c'è un lavoro sul personaggio certo sino cioè il lavoro da parte degli attori ma anche sul personaggio ma anche del regista sui protagonisti beh oltre alla messa in scena ad ogni aspetto tecnico è sempre giusto valutare a dovere il lavoro che il regista fa sugli attori come li diriga ed effettivamente il lavoro di squadra che noi vediamo in questo splendido film cinematografico seppur si tratti di serie però che arriva anche nelle sale è un qualcosa di splendido che come stavo dicendo risulta anche essere un documento storico perché io penso in primis a me stesso che non ho vissuto quegli anni perché sono nato nel 1995 che quindi sì posso aver studiato ascoltato ciò che accadde però non l'ho vissuto al 100% se una cosa del genere accadesse ora anche se magari io mi trovo a milano e tutto ciò accadesse a roma comunque vivo nello stesso periodo film di questo tipo riescono quindi a far rinfrescare la memoria storica di chi magari ai tempi già vissuto queste dinamiche ha avuto paura delle brigate rosse e magari si trovava in tutt'altra zona d'italia chi magari quelle nuove generazioni non hanno mai vissuto questi fatti e grazie al cinema come elemento anche informativo come mezzo per veicolare dei messaggi si riesce proprio a raccontare delle storie che non hanno bisogno di narrazioni posticce che non hanno bisogno di romanzare niente perché purtroppo la realtà è già tragica di per sé e quindi quella quella tragicità viene messa in scena ma non con fini speculativi non si vuole speculare su un terribile accaduto anzi marco bellocchio ti mostra a livello introspettivo ti scardina l'animo l'essere l'essere umano viene scardinato viene sfaccettato entriamo dentro ogni essere umano dal nostro aldomoro a il primo episodio molto aldomoro margherita bui interpreta sua moglie e poi entriamo proprio con con di soppiatto ma con decisione anche nell'io più profondo di cossiga che comincia ad avere anche delle visioni che non si sente più sicuro del suo ruolo politico che viene giudicato dagli altri come un assassino come un omicida e poi dall'altro lato abbiamo papa paolo sesto il nostro toni servillo immenso come sempre che si dimostra uno dei più grandi attori italiani ed è bellissimo vedere come ogni episodio se ci fate caso almeno questi primi tre vadano a terminare con un'inquadratura che stringa sul volto sul volto dei protagonisti nel primo possiamo avere aldomoro e poi il volto di fabrizio gifuni scusate di fausto russualesi cioè cossiga e anche della moglie che non vuole avere niente a che fare con lui e poi del nostro papa paolo sesto toni servillo in un contesto in cui si analizza la chiesa si analizza la politica e si fa capire che forse ci fossero tante cose non dette quanti punti di domanda quanti misteri sul rapimento aldomoro fa venire i brividi in certi momenti esternonotte anche per questi dialoghi che non sono mai ripeto didascalici o a prova di scemo il film molte cose le suggerisce bastano poche parole basta l'inquadratura assieme al montaggio e alla musica per far parlare la scena per far parlare una sequenza e quando capiamo che nonostante la chiesa sia disposta a dar dei soldi a questi brigatisti per avere indietro aldomoro e si vede che questi soldi non arrivino a destinazione cioè aldomoro è vivo è morto ma soprattutto perché questi soldi non arrivano a destinazione sono dei truffatori questi brigatisti che avrebbero voluto i soldi per rilasciare aldomoro oppure c'è qualcuno all'interno dello stato che non vuole che questi soldi arrivino per vari motivi perché poi come spiega papa paolo sesto ci sono varie diramazioni tutto ciò si può non volere perché altrimenti lo stato cesserebbe di avere una propria autorità e agli occhi del pubblico del popolo passerebbe come uno stato che si abbassa i brigatisti oppure c'è qualcuno che vuole vuole morto aldomoro e ragazzi ogni tanto ci sono questi dialoghi che come è come se una punta di coltello ti iniziasse a come un ago a muoversi sulle tue braccia sulle tue gambe sul tuo corpo cominci a sentire questi aghi nel corpo che ti fanno capire la corruzione che forse aleggiava all'interno anche del governo chi è che voleva morto aldomoro cosa c'è di nascosto queste lettere che aldomoro mandava erano fatte scrivere erano state fatte scrivere con con la forza e quindi era stato costretto era stato torturato cosa era stato fatto ad aldomoro in quei 55 giorni terribili di prigionia tutto questo il film lo racconta e ci mostra i vari punti di vista poi siamo noi spettatori a far nostra la vicenda e giungere alla conclusione che più ci ci aggradi ma allo stesso tempo bell'occhio lo fa con una maestria con una cura andando a scandagliare quindi i pro e i contro della politica della chiesa del tempo del vaticano di queste personalità così chiaroscure dei protagonisti che vediamo all'interno del film il tutto è fotografato magnificamente bene da francesco di giacomo che ci mostra una roma quasi che con questo grigiore rappresenti l'animo grigio dei protagonisti che noi vediamo sul grande schermo per una storia che si rinnova tutti conosciamo il rapimento aldomoro la storia delle brigate rosse e se non la conosciamo il film ripeto è un importante documento storico ma allo stesso tempo esterno notte riesce a farlo dando nuova linfa al tutto non portando avanti la solita copia carbone delle mille fiction dei mille film che siano già stati fatti ma regalandoci novità con una regia sempre attenta sempre puntuale che un maestro come bell'occhio riesce a portare avanti con maestria con garbo con delicatezza essendo deciso sicuro di sé basterebbe vedere in volto ripeto questi personaggi per capire quanto essi potrebbero aver da dire e quanto su ognuno di loro si potrebbe fare un film intero quindi è una serie sì con dei tempi televisivi sì perché è pensata per la rai ma allo stesso tempo ha uno spessore cinematografico ha proprio una struttura cinematografica cinematografica quindi io adoro anche quelle serie che hanno un impianto che ricordi il cinematografico mi piace che si faccia riferimento a cristo si è affermato a eboli di rosi che era un film che proprio venne diviso in due parti cioè venne pensato per essere sia cinematografico che televisivo e quindi montato in due modi diversi così che allo stesso tempo si fa riferimento ad un altro prodotto ad un altro sceneggiato italiano che uscì sia al cinema in un tal modo in televisione in una versione più lunga e cioè le avventure di Pinocchio di Comencini capolavoro assoluto io ho avuto la fortuna anche di intervistare Andrea Balestri su questo canale quindi che posso dire esterno notte è un qualcosa che dovete assolutamente vedere recuperare non aspettate che esca sulla rai andate al cinema attendendo i successivi tre episodi dal 9 giugno e fatemi sapere la vostra mi raccomando fatemi sapere la vostra al box office non è nemmeno partito male questo mi fa piacere in un periodo in cui i film fan fatica a galoppare per colpa nostra che non andiamo in sala quindi lasciamolo correre nei prati estesi del box office quindi mi raccomando andate a vedere esterno notte e fatemi sapere nella sezione commenti vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social ma che potreste anche abbonarvi al mio canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana ho anche partecipato ad una nuova live sul canale di matioschi dove abbiamo affrontato in versus la trilogia di spider-man di raimi contro la trilogia di nolan di batman link qua sotto e ho anche scritto una nuova recensione per quarta parete sul sesso degli angeli di pieraccioni non perdetevi ogni link in descrizione alla prossima e un abbraccio